Se hai già fatto il colloquio per il reddito di cittadinanza al centro per l'impiego, dovrai ripresentare e rifare il colloquio al centro per l'impiego per il supporto al lavoro, formazione al lavoro? La risposta è nì. Cosa vuol dire? Vuol dire che nello specifico IMSS non ha ancora risposto a questa domanda, però alcune interpretazioni, ho parlato con alcuni dirigenti e hanno fatto presente che prima avete fatto il colloquio per il reddito di cittadinanza, che per gli occupabili cessa. Quindi questa è una nuova istituzione. Essendo una nuova prestazione potrebbero ricontattarvi al fine di creare un percorso personalizzato di formazione e quindi in quel contesto si dovrà poi andare a inserire all'interno del patto che andrete a fare con il centro per l'impiego tre agenzie per il lavoro, diciamo quelle che voi avete selezionato. Se nella vostra città non ci sono, potete iscrivervi anche ad alcune agenzie per il lavoro online, diciamo quelle un pochettino più vicine a voi, nell'arco di un centinaio di chilometri. Sono sicuro che ce ne saranno. Se avete delle domande, ciao!